Sabato 27 ottobre alle 20.30 la Sala Consiliare del Centro Culturale Aldomoro di Cordenons ospiterà un incontro ad entrata libera con Maria Rita Parsi. La psicologa e psicoterapeuta affronterà numerose problematiche legate alle famiglie. Da un lato la complessità del ruolo di genitore, dall'altro la crescita del bambino ma anche la procreazione consapevole. Organizzato da Nido Nuovo Sole in collaborazione con Fondazione Movimento Bambino è patrocinato da provincia di Pordenone e comune di Cordenons è un appuntamento dedicato alle famiglie sviluppato da una professionista dell'educazione come la Parsi che insegna da 40 anni e che dunque è quotidianamente a contatto con le varie problematiche familiari. Ce ne dà conferma la responsabile educatrice del Nido Nuovo Sole di Fontana Fredda, Laura Soranno. Con lei affronteremo proprio la situazione, l'essere genitori dal momento della procreazione al crescere le varie tappi dell'età del bambino con tutte le sue difficoltà.